Il capitano di Vascello Marcello Notaro è il nuovo comandante della direzione marittima Abruzzo-Molise da poche ore, comandante al vertice proprio delle due regioni Abruzzo e Molise che sono di vostra competenza, un compito di grande prestigio, anche ci sarà tanto lavoro da fare. Certo, col commiato del comandante Minervino che è transitato come segretario all'autorità di sistema portuale ho assunto l'incarico di direttore marittimo dell'Abruzzo, del Molise e delle isole Tremiti, quindi in tale incarico ovviamente la sede principale è quella di Pescara, comunque l'impegno è abbastanza impegnativo perché riguarda un territorio molto esteso. Per quanto riguarda Pescara ovviamente è una realtà che ho avuto modo di conoscere nell'anno che è preceduto, quindi è una realtà che sicuramente anche da un punto di vista marittimo ha dei motivi di espansione, di sviluppo, in quanto sono in corso i lavori per il nuovo porto. Ovviamente sono lavori che richiedono parecchio tempo ma quando saranno conclusi riporteranno a Pescara una realtà marittima che oggi manca. Poi c'è il lavoro quotidiano di polizia marittima per quanto riguarda la pesca ma non solo. Ovviamente la pesca c'è una realtà consistente che poi abbraccia anche quella per esempio di Giulianova nell'ambito compartimentale ma l'attività ovviamente di vigilanza, di polizia ultimamente ci sta vedendo impegnati per l'attività, l'inquinamento che c'è stato nel fiume Pescara e quindi l'aspetto ambientale è sicuramente molto impegnativo. Noi col nuovo codice ambientale abbiamo acquisito le competenze totali quindi paragonate a qualsiasi altro corpo di polizia e quindi intento proprio sviluppare la nostra attività in quel settore andando a toccare ambiti pure molto distanti dal mare che potrebbero comunque comportare un inquinamento dell'ecosistema marino.